Qualcuno computer di legno? Ok E andiamo Subito proprio eh Vai have a great time sirnurs Look at that beautiful nurse Oh my god Oh my god My god That is nurse And she lost me Bleh Oho Predicted Almost 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 Serena Almost 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 No You better Dizienurs This is my odio a morte Bleh I like this nurse very much Why you bully yourself nurse Beautiful baby nurse Oh my god You better Dizienurs You better Dizien Baby nurse Beautiful baby nurse Look at that baby nurse Che cosa sta cercando di fare No lei non mi vuole più Vuole Vuole pancrazia Il punto è che nessuno fa igien Love me z Bruh You're dead You're dead You're dead Stupid Stop Ouch 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 You try to take me Wow Almost Stop No 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 Sir nurse No 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 sir nurse no 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 kill me please van oh pala almost 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 wasteland si stai perdendo una nurse più triste della storia poor baby nurse a me non mi vuole proprio come here please come here ok il silenzio no 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 easy borrow time che carina questa nurse ragazzi facciamo l'ultimo gen però adesso basta no siamo qua non ce ne andiamo più no ma questa è meravigliosa solo loro possono cadere comunque con questa con questa comunque si fanno i juke basici proprio ok allora io adesso voglio però l'unica cosa che voglio cosa il noed con la nurse vedi gli scarsoni comunque madonna e mo hai fatto gli stronzi tutti quanti mi è piaciuto fare i coglioni giustamente ma ci becchiamo il noed ma ci becchiamo il noed salvalo salvalo vai muoviti che cacchio stai aspettando ecco il noed togliamo sto noed madonna l'unico modo in cui tu potevi colpirmi guarda l'unico modo speriamo che questi ma non mi abbandonano qua te pareva quale avranno aperto all'hp dimmi che hanno aperto quella ti prego no che culo mi serve il the dart ragazzi proteggetemi cazzo però dai questi mo se ne vanno ci lascio le penne è rischioso qua si è inchiodata nel muro proprio si è inchiodata nel muro gg nors crazy random subito ha dato un colpo nel muro nice and clean sabato uh i had the so much fun video e 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 Grazie a tutti